Il mondo della sartoria abruzzese si risveglia con due nuove promesse. Le sorelle Simone ed Alessandra De Tomassis sono infatti arrivate seconde al trofeo Arbiter 2021, categoria social. Organizzato dall'omonima rivista di France B3 ed inserito nell'evento di Milano su misura, Arbiter è una competizione tra 28 sarti provenienti da tutta Italia. Tra queste una sola azienda abruzzese, la De Tomassis SRL, con la loro creazione cucita appositamente per l'occasione ed indossata da Pascal Tinari, sommelier del ristorante di famiglia Villa Maiella di Peppino Tinari. Un grande traguardo in quanto arriva proprio dal pubblico che poi compra. Non è stato semplice, è stato un progetto costruito nel tempo, erano sei mesi che lavoravamo a questo concorso. Abbiamo studiato tanto ed effettivamente poi i riconoscimenti ci sono stati. Anche solo il fatto di averci notato per noi è stato molto molto importante. Le uniche donne all'interno di un mondo completamente al maschile e la giuria ha apprezzato sia il taglio che abbiamo portato ma anche il tessuto scelto perché è un tessuto che arriva dalla tradizione del su misura e quindi averlo riportato oggi anche nella modellistica attuale ci ha dato risalto. Una combinazione tra due eccellenze del territorio che si è rilevata vincente. Un modello informale ma non troppo da indossare immersi nel verde dell'Abruzzo tra preziosi vigneti affacciati sul mare. Un accostamento tra una stoffa antica del 1920 color terra e la fodera interna che richiama l'ambiente marino. Un vero tripudio alla regione natale di questi giovani talenti. Una parte è nata un po' per caso per un altro progetto che era già in piedi e scherzando gli abbiamo proposto questa cosa e lui ha accettato. Questo ci ha fatto molto piacere perché comunque siamo nati una squadra di abruzzesi. Poi la crisi del settore, l'avvento della moda standardizzata e dei grandi portali di commercio elettronico. Anni difficili fino al Covid quando nel buio più totale le sorelle di Tommasis decidono di potenziare i propri investimenti nel su misura di qualità come l'unico modello possibile per uscire dalla crisi. Una scelta che sembra averle premiate. Avevamo Labrioni che era riconosciuta veramente come la migliore a livello mondiale. Oggi iniziamo a far fatica sia in quella realtà lì ma anche nelle altre piccole sartorie in Abruzzo. Il fatto che invece noi riusciamo a tenere alto il nome dell'Abruzzo comunque a noi fa molto molto piacere. Non vi neghiamo che ci abbiamo lavorato tanto su.